Salve a tutti amici di AndroidGeek.it, in questo video vi presentiamo un'anteprima italiana, si tratta del Huawei U8650, uno smartphone che deve ancora uscire per il mercato italiano, ma che è già stato inserito nel listino Vodafone. In Italia si chiamerà Huawei Sonic, anzi Vodafone Sonic, prenderà il posto del Vodafone Ideos tra i terminai di fascia bassa entry level, forse ricorderete il grande successo commerciale del Vodafone Ideos, che fu presentato, fu il primo smartphone presentato ad avere un prezzo al di sotto di 100€, e questo Vodafone Sonic avrà un prezzo di 130€, un po' maggiore rispetto all'Ideos, però comunque abbiamo delle prestazioni veramente buone, grazie all'ultima versione di Android Gingerbread 2.3.3 e comunque al suo hardware con un processore da 600MHz e uno schermo da 3,5 pollici, molto buono, ovviamente per uno smartphone di questo prezzo. Vediamo cosa c'è nella scatola, il telefono è una durazione standard, abbiamo le cuffie, il caricatore e il cavo dati USB. A parte questo la manolistica è assente la scheda di memoria SD. Vediamo il telefono, molto leggero, le plastiche si vede che sono molto economiche, ma comunque ricordiamo sempre il prezzo. Abbiamo uno schermo da 3,5 pollici con risoluzione HVGA 320x480, i classici tasti search, back, menu e home, e il sensore di luminosità, lo speaker per le telefonate, sulla parte superiore abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, il jack per le cuffie, sulla sinistra troviamo il bilanciere del volume, sotto troviamo la porta USB e sulla parte posteriore troviamo una fotocamera da 3,2 megapixel senza flash LED, gli speaker e il microfono. Accendiamolo, come vedete è un schermo abbastanza buono, sempre trattandosi di un terminale di fascia bassa, l'aiuta molto nella navigazione il fatto di essere con risoluzione HVGA rispetto ad altri terminali, per esempio l'IDEOS era un telefono QVGA con risoluzione che non aiutava molto nella navigazione web. Qui abbiamo Gingerbread 2.3.3, 256 MB di memoria RAM, comunque abbastanza sufficienti per un uso normale quotidiano, abbiamo un'interfaccia personalizzata da Huawei, la vedremo nel dettaglio nella prossima recensione, comunque vi posso dire che è molto reattiva, come potete constatare, io fino ad adesso non ho notato particolari impuntamenti, comunque vi ripeto, vedremo meglio il tutto nella recensione che vi proporremo nei prossimi giorni. Con questo è tutto, un saluto da Luca di AndroidGeek.it e vi rimando ovviamente alla recensione.